Sì, qui sono appena arrivate le nuove squadre di Vigili del Fuoco che scaveranno ancora, lo faranno anche nei prossimi giorni. Qui tutti sanno che il bilancio sarà ancora più grave perché mancano l'appello tantissime persone, tantissime persone scomparse che potrebbero essere ancora sotto le macerie. Qui è uno scenario davvero di devastazione, a pochi chilometri da dove ci troviamo il campo base italiano non c'è più nulla. Le città sono state praticamente rase al suolo dalle scosse violentissime di una settimana fa. E una settimana dopo si continua a scavare, dicevamo, mancano tantissime persone all'appello e ancora in queste ore, nonostante siano passati quasi sette giorni, si trovano dei sopravvissuti, persone che vengono estratte in vita. Abbiamo visto le immagini registrate poche ore fa di un uomo estratto da sotto le macerie, ha resistito appunto circa 130 ore, addirittura un neonato di sette mesi. Finiamo imprese eccezionali o miracoli. Ha chiesto come sia possibile accadere ad uno dei nostri uomini dei Vigili del Fuoco più esperti, che ha seguito diversi testi di terremoto, guidando proprio le squadre dei Vigili del Fuoco in ammissione qui in Turchia. E lui ci ha raccontato, lo sentiremo in questa intervista, può accadere ancora se saremo veloci. Sentiamo allora le sue parole. Comandante, com'è possibile che a distanza di 120 ore dal terremoto e dai crolli sotto le macerie ci siano ancora persone in vita che vengono estratte? È possibile perché dipende dal tipo di crollo. Si possono formare dei vuoti, delle camere d'aria che danno possibilità di queste ore compatibili con la presenza di persone vive. Ci può succedere, è successo nella nostra esperienza. Enrico Piano c'era un ampio volume che ha consentito di raggiungere queste persone che non avevano subito grossi traumi e quindi poterli estricare dopo un tempo piuttosto ampio. Queste speranze quanti giorni ancora possono essere accese? Non c'è un tempo definito, noi continuiamo e l'obiettivo dei moduli operativi è di arrivare a dare delle certezze in termini di possibilità di trovare delle vite umane.